Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ripeto come ho fatto anche in un altro video, perché non so mai quando li pianifico video, perché i video sono pre-registrati. Comunque, ho avuto, cioè ho ancora l'influenza, ma mi son detta provo a fare qualche video perché poi devo studiare una marea di roba. Ovviamente se le mi creano a voler collaborare perché a volte mi fa male proprio qua, mi schiaccia come se ci fosse una specie di pinza. Comunque, allora, ho fatto un sondaggio, perché ultimamente faccio il sondaggio, l'avrei letto in un altro video, ma ormai sono tipo rincoglionita, ma va bene. Ho fatto un sondaggio e è uscito fuori che la maggior parte delle persone voleva sapere, voleva che li consigliassi, di film o telefilm. Allora, non so cosa sono le sitcom, perché una persona me l'ha chiesto, scusatemi ma nella mia forza ignoranza anche perché ho l'influenza, non so cosa siano, forse sono tipo dei telefilm, non lo so. Comunque vi dico quello che mi piace a me. Se da un punto è stata male, io ho Netflix, ne ho approfittato appunto, però ogni tanto, visto che la notte non riesco a dormire perché mi prende la gola e a volte non riesco a respirare bene, poi mi sono fionnato quattro mila volte, bevo come un cammello, guardo qualche telefilm per addormentarmi. Ultimamente ho finito una serie che si chiama Travelers, la cosa delle donne che si chiama di passeggeri, se non sbaglio, che è appunto un'esclusiva Netflix, è molto bello, tra l'altro hanno messo tre stagioni, quindi io li ho finiti tutte e tre. È molto carino, penso che faranno una quarta, non ne sono certissima, comunque la storia è molto carina, molto fantasy. È ambientata nel ventunesimo secolo sempre, ovviamente parla di questi passeggeri, che sono delle persone che vengono dal futuro, che prendono possesso di, diciamo, della mente e quindi anche del corpo, di persone del ventunesimo secolo che sono storicamente destinate a morire. Proprio come diceva in questo telefilm. Prendono possesso perché devono salvare praticamente il futuro, perché loro vengono da tipo cent'anni, forse indietro, sono andati indietro di cent'anni, perché loro vivono penso cent'anni, cento, centocinquant'anni nel futuro. Non si è mai capito benissimo, però comunque vengono praticamente trasferiti in questi corpi, prima che il corpo muoia. Loro sanno tramite i tell, che sarebbe il luogo, l'ora esatta in cui la persona muore, dovrebbe morire in teoria, tipo una persona magari si deve suicidare, loro prendono possesso della persona prima che muoia, per appunto non sprecare questa vita e utilizzarla come contenitore, tipo appunto passaggero, per fare le cose che sono destinate a fare. Loro praticamente sono addestratti sin da piccoli e tutto è gestito da una persona che viene chiamata direttore, che si scopre più avanti, che non è una persona figurata, ma è un computer che c'è nel futuro, un programma, che praticamente ogni persona è stata addestrata in una maniera, perché questo direttore, questo programma, è un'interfaccia che ovviamente prevede ciò che succederà. Perché il ventunesimo secolo? Perché noi abbiamo appunto internet, queste cose qua, telecamere, satelliti, e tramite questi appunto il direttore può lavorare, aiutarli. Ovviamente loro sono in tutto il mondo e parlano, tipo almeno alcuni sono abilitati a parlare più lingua, e tutto il film è incentrato in una squadra di cinque persone, che ovviamente appunto rinascono in questi corpi, ma non sono appunto i loro, perché si intravedono dei flashback di come erano una volta. Uno di loro, ad esempio, ha più di 150 anni e abita in un corpo di un ragazzino. Mentre invece magari alcune persone non si conosce bene mai che età abbiano, più o meno penso che sia comunque verosimile a quella che hanno nel ventunesimo secolo, però hanno comunque dei protocolli, delle regole da seguire, e hanno delle missioni che devono appunto salvare il mondo da, che ne so, terroristi o queste cose qua. Hanno delle missioni, una delle missioni, diciamo, è anche rispettare le regole, ovvero devono far fin di essere le persone che storicamente sarebbero morte, quindi devono far fin di essere le persone che sono in quell'epoca, non rivelare chi sono, ovviamente, non rivelare il futuro, e non possono né dare la vita né togliere la vita, quindi non possono, diciamo, generare figli, essendo che è una persona che in teoria dovrebbe essere morta, non può avere figli. Quindi loro non possono fare questa cosa qua, perché è un po' complicato comunque. Comunque è molto bello, perché loro appunto hanno sempre delle missioni da fare, devono comunque mantenere la loro identità segreta, però diciamo che hanno fatto su tre stagioni, è molto bello. Poi vado, magari la trama la racconto un po' più strano da questo qua, è un po' più complicato. Poi sto guardando adesso, perché appunto ho finito la serie, sto guardando, si chiama Le streghe di East End, lo tradotto perché è scritto in inglese, non ce lo vuole, però è una cosa come Witches East End, quindi alla fine è più o meno quello. Comunque sono le streghe di West End, questa roba qua. E' molto carino perché parla di queste, all'inizio di queste streghe, che sono praticamente maledette, e vivono gli East End, e praticamente sono due sorelle che sono state maledette, una è destinata a trasformarsi in un gatto ogni tanto, e ha nove vite, appunto come gatti. L'altra invece è destinata ciclicamente a rimanere incinta di due ragazze, di due streghe, che però tutte, non so se per quale motivo, muoiono giovani, o uccise, eccetera, ma nel 1600 si poteva aspettare di più, perché ogni volta che qualcuno faceva qualcosa di particolare, era considerata una strega, ma vabbè. Appunto questa storia va avanti al 1600 qualcosa, fino agli anni nostri più o meno. E' carino perché appunto la storia è ambientata, più o meno i nostri tempi, in questo specie di paesino, dove si susseguono delle cose molto carine, che si ricollevano le loro vite precedenti, perché la madre, cioè le due sorelle, vivono da 400 anni, le ragazze, cioè, ma come se rivesterò la loro vita in maniera diversa ogni volta che rinascono. E poi ci sono altri collegamenti, eccetera, ma è molto carino. E' bello, lo so guardando, il suo sogno è arrivato più o meno, non mi ricordo quale puntata, mi sono perso. Però lo consiglio, anche genere fantasy. Ha dei telefilm, che posso consigliare, per meno che io so, ultimamente si guardano più colto quelli di Netflix, perché lo streaming mi viene molto più comodo, eccetera. Però c'è uno bello che avevo già consigliato un po' di tempo fa, non so se riesco a mettervi il video qua sopra, perché è molto vecchio, si chiama Beauty and the Beast, che sarebbe la bella e la bestia del telefilm. Ve lo consiglio, lo potete trovare, penso, online, anche quello è molto bello. Poi, perché lo seguivo molto, perché mi è piaciuta la bella e la bestia, quindi figuriamoci in telefilm, era molto bello. Poi, come altri, magari come film, ultimamente ho rivisto Passenger, che l'hanno noto al cinema, anche lì è un fantasy, sì, fantascienza, fantasy. E' molto bello, e consiglio di vederlo, magari è un po' lento come film, però a me è piaciuta molto la storia. Come altri film, ultimamente è una piccola cosa vista, a parte quelli di Natale, che sono magari un po' scoccianti. Sono passata con il film, ho visto. Diciamo film, non lo saprei, magari... Perché guardo più che altro delle film? Il film volevo andare a vedere al cinema Bubble Bee, però poi non sarei più riuscita. L'ho visto uno, però penso di... Non so se ho fatto la recensione o meno. Ho visto tipo Beinom al cinema, pensate che l'aveva fatta la recensione, non mi ricordo. Però comunque anche quello lì, quello lì era bello. Sì, mi piacciono un po' di tutti quelli di... Comunque con niente a che fare con la realtà. Perché alcuni li ho visti, ma sono veramente... Tipo ho visto un film che molti mi hanno consigliato di vedere. A me non è piaciuto tanto, perché è lungo, e non so perché non mi... Non ha soddisfatto i miei canoni, che si chiama tipo storia d'inverno, una cosa del genere. E' triste, tanto triste come film, ma non è proprio il mio genere. Cioè mi piace la storia di base, perché comunque anche lì è fantasiosa, ma non mi è piaciuta. È troppo... È molto lento, e mi ha fatto venire un magone. Non so, non so forse per quel tipo di storia lì. Non mi è piaciuto tanto. Quindi, invece mi sono appassionata appunto con questi telefilm che sono più fantasy. Adesso sto seguendo questo. Mi fa male la gola se mi sto toccando, non è perché sono scema. Poi, non mi ricordo quello, l'ho consigliato l'altra volta. Vi lascio sopra il video, quelli che ho consigliato l'altra volta, di Netflix. Non sono più andavanti con la serie di Lucifer, non so se ve l'ho detto nello scorso video. Sto guardando la serie di Lucifer, perché adesso la hanno... Devo uscire le puntate in italiano, poi penso che guarda l'altra, perché mi piaceva molto anche quella. C'erano storie sempre molto fantasiose. E niente, penso... Allora, non sono tanti telefilm, se riuscirò a rimetterlo qua. Vi consiglio di guardarli, perché appunto, se vi piace il genere fantasy, eccetera. Dicevo che alcuni sono anche un po' alcuni catastrofici, nel senso che non mi appassionano tantissimo. Cioè, li guardo, eccetera, però non mi appassionano tantissimo. Poi alcuni, magari guarderò poi altri film, però adesso sto seguendo serie tv, perché mi piacciono un po' di più. Perché comunque sono più lunghe, un film a Terminali. Mi sono vista anche alcuni film, però sono molto più tranquilli, nel senso che non ci faccio grandi recensioni, perché sono un po' vecchiotti. quelli magari, tipo, visto serendipity, però, persona tale, anche quello, però non c'entra niente. E niente, io vi ho consigliato appunto, guardavi, le streghe di Waste Hand, e l'altro che si chiama appunto, Traveler, di passeggeri. Comunque li trovate tutti su Netflix, o anche online, per se lo si possano trovare. Sono molto belli. Un'altra serie che ho già consigliato, ma ve la riconsiglio, perché a me comunque è piaciuta moltissimo. E di Android sarebbero i 100. Poi non so se, penso che l'avrò già detto a qualche parte, ma comunque io ve la riconsiglio, perché è molto bella. Non vi consiglio Grisanatomi, per esempio ci ha fatto che sono uscite 400.000 stagioni, non ci sto dietro nemmeno più io. E niente, vi saluto, e ci vediamo a un prossimo video. Una buona giornata a tutti. e ci vediamo a tutti.